performance lighting carlo cattaneo buongiorno siamo siamo a firenze buongiorno e vorrei sapere prima di tutto che cosa avete da dire al pubblico che visita questa mostra fiorentina e buongiorno a tutti sì la nostra presenza qui a firenze alla mostra della mef di quest'anno ha lo scopo di presentare il passo avanti che ancora una volta la nostra azienda ha fatto dall'ultima edizione queste sono appuntamenti biennali e quindi noi ogni volta che ci presentiamo portiamo alla vista dei nostri clienti le novità di prodotto che sono state realizzate in quel periodo in questi ultimi due anni proprio perché la il progresso tecnologico nel campo del mondo dell'illuminazione è costante è un progresso che ci porta a far uscire dal nostro catalogo una ventina di famiglie di prodotto all'anno e a farne entrare mediamente 10 15 quindi questo rinnovamento di gamma è talmente talmente veloce talmente rapido talmente intenso che queste sono delle ottime occasioni per poterlo trasmettere ai nostri clienti. Mi pare che la vostra sia un'azienda che corre ad alta velocità. Esatto la nostra azienda sicuramente corre ad alta velocità proprio come dicevo la tecnologia ha questa caratteristica per stare al passo col tempi anche perché essendo aziende che hanno dei contenuti tecnologici importanti sono riconosciute dal mercato proprio per questa capacità che hanno di dare delle soluzioni che sono sempre soluzioni in linea con la migliore offerta del mercato di quel momento la velocità è un fattore essenziale necessario. Che sentimento si palpa in questa fiera? Il sentimento è sempre per noi un sentimento positivo incontriamo i nostri clienti i nostri i nostri quelli che comprano e installano i nostri prodotti e ci danno i loro consigli suggerimenti e ci danno anche il conforto di avere fatto bene il nostro mestiere perché ci raccontano delle installazioni che sono in atto facciamo anche qualche vendita che non dispiace mai il sentimento che si respira sempre quello di essere a contatto con chi usa il tuo prodotto tutti i giorni e lo conosce meglio di te. Benissimo grazie Carlo. Grazie a te.